Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo video di Zio Pesce e questa sera parleremo del Tanictis Albonubes, un pescino molto carino, un piccolo ceprinide originario della Cina, infatti il suo nome in latino vuol dire pesce di tan delle nuvole bianche, vive in acque fresche, si adatta benissimo anche ai nostri pond e ai nostri laghetti, vive bene sotto il ghiaccio e supporta temperature basse. In acqua dovrebbe stare generalmente intorno ai 20 gradi, in inverno anche 15-18, ed estate posso portare tranquillamente anche i 30 gradi a patto di avere buona corrente e acqua ossigenata ma soprattutto pulita. L'alimentazione accetta qualunque tipo di cibo, però meglio se riusciamo a dare piccoli zanzari in estate, piccoli insetti, nonché surgelato, chironomus e artemia. È relativamente semplice da riprodurre, un buon allenamento per passare a pesci più difficili come magari i caracidi. Diciamo che è una tecnica riproduttiva che è molto simile a quella dei piccoli ciprini, dai brachidaneo ai danio margaritatus, a tutti quei pesciolini che diciamo depongono le uova su substrato come moss, a differenza delle rasbore, rasbore eteromorfo in particolare, che invece depone su foglie piatte tipo quelle di anubias o critocorine. Detto ciò, i piccoli sono molto piccolini in effetti, sono sui 3 mm, andrebbero nutriti nei primi stadi di vita, nei primi giorni con parameci o eventualmente con cibo finissimo polverizzato, ovviamente questi danno una resa inferiore. Una volta che iniziano a mangiare i naupi diciamo che il più è fatto. Attenzione ai primi giorni perché se non si nutrono bene possono avere problemi e si rischia anche di perdere diversi individui. Che dire, vi lascio le immagini, buona visione, ci rivediamo verso la fine. Ciao! In questa foto vediamo la vaschettina da circa un paio di litri con sotto la retina che serve per riprodurre i tanictis. Qua vediamo invece le due vaschette che utilizzo, quella da 7 litri sulla destra, dove ci sono invece i tanictis e quella sulla sinistra. Sempre retina sul fondo e un ciuffo di moss vesiculari a muschio di java come substrato per la deposizione. I maschi della femmina in genere vanno in mezzo al muschio e si accoppiano rilasciando le uova che poi schiuderanno nell'arco di 24-36 ore in base alla temperatura. I valori dell'acqua possono girarsi intorno a 7, un giacca fra i 5-8, insomma una durezza medio-medio-bassa e che è anche quella praticamente di allevamento, tendenzialmente sebbene possono sopportare pH più alti e anche due rezze più elevate. Qua vediamo degli incroci che ho fatto, brown per gold. In questa sequenza vediamo il maschio che è un gold, precedentemente c'era la femmina che era gold, che sta incalzando l'altra femmina. Io ho messo due femmine per avere una maggiore possibilità di che i partner si trovino. In questo momento sta spingendo la femmina nel muschio e fra un secondo vedremo l'accoppiamento. Eccolo qua, il maschio cinge sulla schiena la femmina e vengono rilasciate le uova. Vedremo in queste foto di una coppia di alcuni anni fa sopra la femmina sotto il maschio come avviene la cosa in maniera più lenta. Qua il maschio affianca la femmina nel mosse, qui inizia a cingere la pinna dorsale della femmina, in questo momento avviene l'accoppiamento vero e proprio con l'espulsione delle uova. Un'immagine ecco questa che vediamo, anche in questo caso vediamo come i due pesci si stringono l'uno all'altro per emettere i prodotti sessuali. Dopo 24-36 ore nascono queste piccole creature che sono trasparenti all'inizio ma dopo un paio di giorni assumono queste sembianze. In questo caso vediamo un piccolo tanictis di 24-36 ore, quindi appena nato, le sue dimensioni e le reazioni che può avere una volta che viene stimolato. Osservazione, per riprodurre pesci così piccoli conviene non immettere il filtro che aspirerebbe nutrimento, quindi microrganismi e piccolini stessi. Pertanto è indispensabile, soprattutto nelle prime fasi, nelle prime due settimane, poi se uno vuole può anche mettere un filtro, cambiare l'acqua quotidianamente, anche il 20-30% tutti i giorni, con l'acqua preparata ovviamente il giorno prima, le stesse condizioni biochimiche di temperatura di quelle di destinazione. Questa è una cosa molto importante perché l'igiene e gli azotati bassi, quindi gli inquinanti bassi, sono fondamentali per la crescita dei piccoli pesci. Quindi attenzione a questa cosa, niente filtro e cambi d'acqua frequenti. Qua invece li vediamo, sono sempre avanoti di circa un paio di giorni, che si accingono a intraprendere il loro viaggio verso la superficie per gonfiare la vescica natatoria. Sono molto piccoli e delicati, non vanno mai presi con retino e da qua a un paio di giorni inizieranno a notare attivamente la ricerca di piccole prede vive o eventualmente di magime finemente sbriciolato. Eccoli qua, i piccoli tanictis che hanno preso notare sembrano delle lucine in acqua molto molto simpatiche e vivaci. Al contrario dei piccoli caracidi sono molto attivi alla ricerca di cibo e si possono anche nutrire con fine mangime sbriciolato. Ovviamente la resa e la crescita saranno inferiori, ma nel caso non abbiamo disponibilità di infusori possiamo ricorrere a questa possibilità. Ecco le vaschette in cui io cresco i miei pesci, di fianco a sinistra una bottiglia tagliata con dentro degli oranda, sopra i tanictis che si vedono qua e sotto c'erano invece dei brachidani. Ecco qua i piccoli tanictis, sono veramente una buona schiusa devo dire, qui in un primo piano sono sempre i gold questi e sono un po' cresciuti. Di fianco a destra vediamo un oranda piccolo, dietro vediamo invece un tanictis fratello di questi che è venuto fuori brown e questi sono tutti quelli che abbiamo visto prima. Qua di fianco invece vediamo dei brachidani o franche in fase di crescita nella vaschetta da 7 litri. Questi hanno già circa 3-4 settimane pancino rosa perché chiaramente mangiano abbondanti razioni di artemia. Ecco qua i gold che hanno in questo caso circa un mese, un mese e mezzo, sono una trentina grosso modo, alcuni purtroppo sono stati persi anche per via dello spazio ridotto, mano a mano crescono. Questo è il momento in cui vengono rilasciati nella nursery del mio stream, il stream Wabikusa, Aquarello come meglio conosciuto e insieme ad alcuni brachidani o franchei vengono lasciati in questa pozzetta laterale dove la corrente è molto lenta e dove c'è un canale che poi ad agio ad agio li porterà verso zone più profonde di questo ruscello casalingo. Che dire, in questo modo io ho la possibilità di fare un ambientamento lento, fare in modo che i pesciolini si adattino alla situazione e fare in modo che anche gli adulti non li intravedano come prede ma come semplici appartenenti a quello che è l'ecosistema acquario, anche perché i piccoli hanno un modo di adattarsi e quindi una volta che si adattano al nuovo territorio sono meno vulnerabili a livello di predazione. Vero è che le piante giocano un ruolo importante, quindi ci sono notevole barriere visive, i pesci sono veloci e i tanitis chiaramente non sono predatori né come beta né come scalare, in questo caso i piccoli non avrebbero scampo. Che dire, una bella vaschetta con tutta la corrente di cui hanno bisogno, ecco qua abbiamo i genitori, in particolare la mamma è questa qui, in attesa che anche loro occupino i loro spazi. Questo è il cugino, tanitis mica gemma in particolare, qui abbiamo in basso una femmina di quelle che avete visto prima, dietro una femmina di 4 anni di tanitis normale davanti a un mica gemma, mentre invece qua c'è un maschio gold e il suo figlio, di fianco una femmina normale, la mamma di tutti i gold, che adesso è oltre 5 cm, è diventata molto grande, e qua abbiamo tutti i pesciolini che avete visto prima, o meglio una parte perché gli altri sono stati dati a un amico, nell'acquarello. Questo è il padre di tutti i gold che ho, nel retro invece uno dei figli di un incrocio brown per gold. Bene, ci rivediamo, avete visto il video? Spero vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale perché ci saranno grosse novità. Qua dietro, nella vaschettina che vedete, ci sono i piccoli di Paracherodon in mesi. Prossimo tutorial. Ciao, ci rivediamo, zio pesce.